Ma vorrei fare come dire una off records, sentire due parole in chiusura dell'amico Trinca che ha fatto una lettera appello rispetto alla medicina biologica integrata e mentre lui si accinge a darci il saluto rapidamente invito a un altro appello, il manifesto per la verità della scienza che non vuol dire la verità, vuol dire che la scienza deve assumere la responsabilità che quelli che oggi hanno qua parlato non sono folli non sono nemici della scienza, non sono contro il patto e proprio chi non è contro il patto e ne è stato presidente se ne è dovuto andare perché si è candidato, guarda caso, con il PD per le elezioni in Puglia, l'Opalco mi pare interessante sigillarlo con le parole che ha scritto in un suo documento di queste ore sulla stagionalità del virus esistono pochi dubbi, il raffreddore del resto si chiama raffreddore per il motivo per un motivo, il freddo che predispone a inoculi virali più consistenti insieme alla ripresa dell'attività al chiuso fanno aumentare la circolazione, qui fa un errore di grammatica quello che osserviamo ora in molte regioni italiane rispetto all'epidemia Covid-19 è che l'attività locale del virus si è praticamente spenta e questo è il rappresentante del patto traversale che ha difidato gli altri oratori si è praticamente spenta e grazie alla sorveglianza più o meno attiva vengono rilevati tamponi positivi in soggetti che probabilmente si sono sempre addietro, si sono infettati oppure sono importati da aree dove la circolazione verale è ancora attiva ma sono appunto asintomatici, contagiosi, contagiati ma non malati lo dice l'Opalco, l'antagonista di questo convegno per questo chiudendo con queste parole, invitando tutti gli italiani a fermare il manifesto per la verità della scienza perché la scienza ci rassicuri rispetto alla vita e non rispetto alla morte chiedo che la lettera aperta dell'amico Trinca ci venga esposta rapidamente per dirci qual era il suo tema e considero un onore, vi ringrazio e anche per una responsabilità dire alcune parole di chiusura come biologo parlerò quindi di vita in senso scientifico e come garantirla la mia competenza di biologo nutrizionista clinico da 35 anni è in quei 7-10 giorni che tutti i clinici hanno detto essere stati giorni a domicilio decisivi per la qualità poi dell'esito del malato perché arrivavano in ospedale, l'ha detto anche Stefano Manera, arrivavano in ospedale già disastrati d'altro canto erano stati chiusi gli ambulatori per ordine superiore dei medici di base erano latitanti, avevano paura di prendere il virus e il ministero gli aveva detto che così era giusto fare i pazienti erano senza terapia invece io ho scritto il 30 di marzo a tutte le autorità sanitarie, nazionali e regionali e ho avuto due risposte importanti dall'AIFA e dall'Istituto Superiore di Sanità che quindi costituiscono almeno un documento di vaglio di ciò che ho scritto con letteratura scientifica alla mano paradossalmente un vaglio positivo salvo che l'Istituto Superiore di Sanità ha detto dottor Trinca lei ha ragione ma non si può fare mentre il vaccino OGM si può fare il vaccino OGM per cui Bill Gates ha detto pubblicamente che si attende almeno 700.000 reazioni avverse gravi nel mondo quello si può fare saltando tutte le procedure di sicurezza normalmente usate dall'industria farmaceutica per la sperimentazione di farmaci e vaccini ma la medicina biologica non si deve fare in un momento in cui il 30 di marzo c'era un vuoto terapeutico ma anche adesso c'è un vuoto terapeutico perché l'EMA, l'ente europeo dei farmaci ripreso dal centro per il covid dell'Umbria dove vivo che ha letto verso aprile le disposizioni no all'idrossiclorochina no all'eparina a basso peso molecolare o comunque tanto meno a domicilio forse neanche in ospedale è come se i clinici non sapessero maneggiare il bisturi se sono chirurghi o i farmaci se sono medici internisti eccetera quindi il vuoto totale allora si voleva l'emergenza si volevano i morti questo è il dubbio che sovviene allora la medicina biologica che io ho scritto integrata perché quando serve un farmaco di sintesi deve venire anche quello parte dalla fisiologia vi dirò due parole sulla fisiologia del sistema immunitario per farvi capire l'imbroglio e dar modo ai giuristi al magistrato di capire con gli elementi tecnici se c'è stata una volontà di montatura o meno io offro degli elementi non sono io il giurista ma alcuni di questi elementi a me fanno sovvenire l'articolo 270 sexie del codice penale andatelo a vedere condotte in materia di terrorismo di terrorismo si è trattato il sistema immunitario funziona in maniera semplice ma rigorosa che ci nascondono si parla solo di anticorpi devo dirvi immediatamente e i colleghi qui in sala lo possono confermare che il sistema anticorpale che produciamo naturalmente è uno dei due bracci non l'unico del sistema immunitario l'altro braccio che si chiama immunità innata e a specifica perché combatte tutti i virus tutti i batteri non viene mai nominato ma è il primo che entra in funzione il sistema immunitario innato a specifico agisce in minuti ore il sistema immunitario anticorpale agisce in giorni settimane qui siamo tutti pieni di batteri e virus ci sono cellule che mangiano i batteri e virus semplifico i macrofagi grandi mangiatori ma la cosa importante è che una volta che hanno mangiato è più complesso ovviamente che hanno mangiato i batteri e i virus come i Marines e le altre gli anticorpi sono le truppe speciali consegnano alle truppe speciali la divisa del nemico che hanno catturato se sono stati ben armati e capiremo fra pochi secondi cosa vuol dire ben armati in campo biologico consegnando la divisa del nemico alle truppe speciali che sono le cellule dell'immunità anticorpale queste si mettono al lavoro e formano naturalmente i nostri anticorpi questa è la dialettica tra i due sistemi immunitari e li formano con molta più efficacia perché combattono il vero virus il vero ceppo che sta circolando in quel momento non quello di un anno fa perché quando si inizia a fabbricare un vaccino adesso stanno correndo bastano pochi mesi ma in ogni caso ci dicono tutti i ricercatori che non è più lo stesso virus iniziale mentre il sistema anticorpale naturale perché vogliono i vaccini e non gli anticorpi naturali? questo ci dobbiamo chiedere vaccini OGM che entrano è eugenetica nazista perché entra nel sistema genetico dell'essere umano e si trasferisce alla prole e quello che mettono dentro Dio solo lo sa o il demonio stesso lo sa a cui loro si ispirano perché vi dico una cosa che il progetto di Bill Gates si collega perché è lui che comanda la sanità mondiale non ha titoli medici non ha titoli istituzionali ha i soldi con i soldi comanda tutto anche il presidente Conte lo ha accolto a me da biologo non mi accoglie perché gli ho scritto ho scritto al ministro della sanità al vice ministro che è un collega medico allora ha presentato non so se lo sapete pochi mesi fa credo all'ONU un progetto di estinzione delle specie animali indesiderate tramite tecniche di ingegneria genetica e non è che la specie umana ha una biologia diversa dalle altre specie allora possiamo dire che c'è qualcuno che ha in mano questa tecnologia o per sterilizzare o per uccidere le specie indesiderate ma per i transumanisti l'essere umano è indesiderato vogliono il mondo transumano questo bisogna dirlo e bisogna aggiungere quindi che colui che detiene questa tecnologia i brevetti gli istituti di ricerca i laboratori ha pubblicato nel 2014 ha pubblicato ha espresso in un video che è di dominio pubblico la volontà di abbassare la popolazione mondiale di almeno il 10-15% lo sappiamo devi dirci cos'è l'appello che hai fatto allora l'appello è a usare un kit di e mi hanno detto che ho ragione ma non si può fare un kit l'istituto superiore di sanità c'è qui il documento e cosa dice il tuo appello? dice lui o io allora dice che il sistema immunitario funziona con acido ascorbico con zinco con magnesio con vitamina D con vitamina A per l'epitelio polmonare e tante altre cose ancora con la flora batterica intestinale giusta con gli omega 3 tutta questa è la fisiologia del sistema immunitario vuol dire i Marines se non hanno in dotazione le armi che hanno imparato ad usare con cui sono stati addestrati possono perdere la guerra perché oggi si mangia da schifo si mangia un cibo devitalizzato perché c'è stato il lavaggio del cervello e ti hanno risposto? come dici? ti hanno risposto? mi hanno risposto l'AIFA invitandomi più correttamente a presentare un progetto di studio osservazionale al ministero io l'ho fatto ho scritto una seconda lettera in PEC non mi ha risposto il ministero e invece l'istituto superiore di sanità ipocritamente mentre si approva il vaccino OGM mi ha detto lei ha ragione in teoria ma non si può fare perché perché possono essere tossiche le vitamine e i minerali se le diamo a tutti come se i clinici non sapessero dosare se c'è ferro se c'è zinco se c'è vitamina D in che dosaggi mentre il vaccino OGM quello sicuramente non è tossico grazie grazie anche per il contributo del dottor Trinca grazie a tutti